Immagino che non sia qualcosa di più, e potessimo fare tutto noi. Sì, lo so, lo so, lo so, il mondo è pieno di scarsa e fatiche. Ne è uno qui davanti. Oh, non me ne parlare. Ragionier schiavo? Ma che fa? Dorme? Vada, vada a prendersi un caffè. Torni con la testa sul lavoro. 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 qui fuori? Esca subito! Ragionier schiavo! Non sono pagato per andarla a prendere nello sgabuzzino! Altrimenti dovrebbero darmi 10 milioni di più al mese! Io l'avverso! Se non la smette con questo comportamento sarò costretto a licenziarla! Grazie! 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 Grazie!